Siamo al Vinitaly 2019, ci troviamo con Bortolomiol, una dell'azienda del simbolo, dei DOCG e delle rive, insomma del prosetto Veneto. 200 anni di storia si diceva. Sì, due secoli di storia tutti passati su queste colline di Conegliano Valdobbiadene, ma 70 anni ricorrono quest'anno della fondazione dell'azienda e per questo anniversario abbiamo pensato di festeggiare con una bottiglia particolare. Allora, la bottiglia ce l'abbiamo qui, è l'Audax 03. È una cuve particolare, fa parte di una collezione con la quale noi siamo presenti con l'e-commerce vino 75 ed è oggi quella più importante perché l'ultima nato è un dosaggio 3.0, significa un extra brut, quindi un prosecco superiore per il futuro. Molto secco, adatto ai giovani, adatto comunque alla convivialità, però con una grande struttura e una scelta delle uve che è stata fatta in vendemmia proprio per una selezione così particolare. Quindi comunque un'attenzione particolare comunque. Se volete assaggiarlo andate su vino75.com e lo potete acquistare a Audax di Bortolomiol.